Di accoreri per sempre, in ogni cielo e in ogni mente, di accoreri per sempre, nel nostro cuore eternamente. Il nostro cuore eternamente. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video del Gobbo Toscano. Intanto buon pomeriggio, come state? Spero bene, come dice il buon Lello, il buon Colpo Gobbo, che saluto. Ciao Lellone. Vi voglio portare questo contenuto un pochino diverso dagli altri. Ma perché? Perché succede in un momento in cui si sta parlando già di un altro infortunio. Nelle ore scorse si stava parlando di Azic, come non sarà disponibile almeno fino alla sosta delle nazionali di ottobre. Quindi fino a fine ottobre dovremo rimandare questo possibile esordio che aveva in testa Tiago Motta. Quindi anche lì un giocatore ancora molto fragile, ma c'è molto di più. C'è molto di più e molto più preoccupazione. Attenzione, molta più preoccupazione. Detto questo andiamo subito a svelarvi il nome del giocatore in questione, ma prima vi ricordo come sempre un bel like a sostegno del canale, un'iscrizione che non costa nulla e poi iscrivetevi, ve l'ho già detto, condividete il video, commentatelo dicendoci la vostra e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti. Mi raccomando che è sempre fondamentale. Allora, vediamo a noi, vediamo a noi. Stop in allenamento. La Juventus di Motta sta preparando la gara di sabato contro il Genoa di Alberto Gilardino e ci sono cattive nuove per i bianconeri. Quale Juventus a Genova? Quella spigliata, sfrontata e intraprendente, vista contro il Comodo e il Verona oppure la Juventus vogliosa ma un po' pasticciona e sprecona delle gare successive contro Roma, Empoli e Napoli? Sabato sera, intorno alle ore 20, la risposta è la delicata questione perché sarà finita la partita. Tiago Motta prosegue la preparazione di una gara che può già rappresentare un momento cruciale della stagione della Juventus, sabato il Genoa, martedì Illipsia, per la seconda giornata di Champions. Marassi ed il Genoa di Gilardino possono rilanciare la formazione bianconera in vista della trasferta interna tedesca oppure instillare ulteriori dubbi già spuntati nelle ultime gare di campionato. Motta studia l'undici iniziale provando ancora una volta a rincuorare Vlaovic e a provare a rilanciare Douglas Lewis, il mistero più imperscrutabile di questo inizio di stagione della Juventus. L'ultimo allenamento però non ha portato buone notizie al tecnico italo-brasiliano. Rappresenta la più bella novità della Juventus di oggi, Nicolò Savona. Ha già ammaliato Tiago Motta fin dal primo allenamento durante la preparazione estiva. Il classe 2003 di Aosta è diventato un punto fermo della compagine bianconera in questa fase iniziale di stagione. Il suo moderno allenamento però si è concluso in largo anticipo. Un dolore al piede sinistro è la causa dell'uscita anzitempo dal campo di allenamento. Il problema al piede potrebbe essere un residuo della sfida contro il Napoli, conseguenza indesiderata di uno scontro con Foloruncio, o come si legge, avvenuto quasi al termine della ripresa. Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni di Nicolò Savona per comprendere se sarà o meno disponibile per la sfida di Genova. In caso contrario potrebbe essere schierato Calulu come terzino destro, con il rientrante Gatti affiancato a Bremer, da tenere sempre in considerazione anche l'eventuale opzione da Nilo che io vi dico, secondo me, non è da tenere in considerazione perché lo vedo ormai prossimo ai saluti, lo vedo ormai fuori dal progetto. Quindi diciamo che sono notizie bruttine, no? Allora, già Azic, ma ne parlano tutti, sembra il clamoroso, no? La Juventus dovrà fare a meno di Azic, è come se uno mi fa il titolo, la Juventus dovrà fare a meno di Milic, santi Dio, quando l'abbiamo mai avuto? O la Juventus dovrà fare a meno di Pogba, quando mai l'abbiamo avuto? Azic, quando mai l'abbiamo avuto? Questa stagione mai, quindi sì, potrebbe essere uno che ti può far fare il salto di qualità, ma anche se fosse rientrato ora, avrebbe dovuto riprendere piano piano la confidenza dopo i vecchi infortuni, è Gracilino, no? Ha un fisico molto ancora da sviluppare. Quindi non sono quei giocatori fatti, finiti, pronti fisicamente, che li butti dentro e provi a far sì che facciano la differenza nella partita. Savona è invece uno di quelli. Savona è veramente un giocatore, da quel punto di vista, formato, anche perché ha un'età diversa da Azic, e anche fisicamente e strutturalmente è bello piazzato, no? Quindi parliamo di un giocatore affidabile già, che ha già dato prova delle sue qualità e della sua affidabilità in partite importanti con la Juventus. Quindi vediamo un attimino, speriamo che non sia nulla di grave, nelle prossime ore verranno fatte le valutazioni del caso e poi si saprà più, se si saprà qualcosa di più, se potrà essere impiegato o se ha un infortunio. Se non dovesse avere un infortunio e non verrà impiegato, sarà semplicemente per preservarlo in vista del PSV, anche se credo che col PSV le preferenze vadano sempre più su Calulu, ecco perché avrebbe fatto comodo, farebbe comodo Savona contro il Genoa. Però Tiago Motta ci può anche stupire, no? Può mettere un Calulu, titolare col Genoa, e un Savona, titolare in Champions League con il Lipsia. Stavo dicendo il PSV, mi sapevo sbagliato. Comunque giochiamo con l'Lipsia in Germania. Ragazzi, ditemi anche voi la vostra, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di questa situazione, ma io credo, credo che, e spero che non sia nulla di che, anche perché la botta è rimediata contro il Napoli, però poi si è allenato, probabilmente è un fastidio che non gli dava fastidio, fino a che non ha risforzato abbastanza il piede, sarà semplicemente un ematoma o qualcosa, una botta. Speriamo non ci siano micro fratture al piede, perché se no è una palla, no? Devi stare comunque fermo, qualche dito, qualche osso, no? Sopra al piede, sul torso del piede. Vediamo un attimino. Ripeto, spero e credo che non sia nulla di che, ma stiamo sempre all'antinne dritte, perché ovviamente ci sono sempre le sfighe alla Juventus dietro l'angolo. Oltre a questo, torniamo un attimino al discorso di Azic. Azic, io credo che quest'anno sarebbe comunque stato, indipendentemente che avrebbe fatto comodo un giocatore in più, sarebbe comunque stato un anno di prova, no? È ovvio, sì, sarebbe stato fatto giocare un po' di più, avrebbe fatto qualche minuto a fine delle partite, sarebbe stato un cambio importante, fino poi a provare anche la titolarità in qualche occasione. Ovvio che questi infortuni stanno rallentando l'inserimento del giocatore, ma ripeto, mi preoccupa molto di più un Savona in questo momento, anche perché abbiamo un equilibrio difensivo invidiabile da tutte le altre squadre, anche a livello europeo, e cominciano a mancarti dei pezzi importanti, no? Gatti è stato sostituito benissimo da Kalulu, in campionato, io ve l'ho sempre detto per come la vedo io, Kalulu, gran difensore, terzino destro e centrale di destra, è un giocatore che in difesa la sua la può dire sempre, al Milan dello Scudetto è stato fondamentale, insieme a Teo Hernandez, sono stati l'annata, le loro due le rivelazioni, poi Teo Hernandez ha continuato, Kalulu no perché ha avuto dei problemi a livello fisico, anche lui, ma che stiamo vedendo oggi, toccandoci, toccando il ferro, non si è ancora infortunato, ma perché abbiamo visto che erano problemi dettati anche da un determinato tipo di preparazione e di allenamento personalizzato dei preparatori del Milan di Pioli, quindi stiamo a vedere, mi raccomando voi fatemi sapere tutto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi, lasciate like, commentate, condividete a manetta i contenuti, mi raccomando sotto in descrizione c'è il link di tutti i nostri riferimenti ai social, quindi fino alla fine Forza Juve e fino alla fine Gobbo Toscano, perché il Gobbo Toscano siete tutti voi e noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live, vediamo se stasera riesco, sono un po' stanco, vi dico la verità, se sto bene la faccio, perché non bisogna mancare, ma se dovessi essere un periodo stanco preferisco stasera bypassare e poi domani abbiamo già una live in programma che ora farò uscire nei prossimi minuti, già il link, quindi potrete già andare a mettere il like con un ospite d'eccezione, mi raccomando, a più tardi ragazzi e buon pomeriggio a tutti, ciao!